La seconda edizione di Oratg, ben trovati a voi tutti, apriamo il giornale, come purtroppo ormai consuetudine da un po' di tempo a questa parte, con l'aggiornamento sui dati del Covid in Sicilia, sul numero di nuovi infetti da coronavirus nella nostra regione, secondo quanto rilevato dalla regione siciliana e poi comunicato al Ministero della Salute, ma oggi da segnalare anche la conferenza stampa dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza a Palermo, che ha parlato di Covid, ha parlato del sistema sanitario e ospedaliero pronto, dice l'assessore ad affrontare questo periodo autunnale che va ad aprirsi. Vediamo. Conferenza stampa nel pomeriggio dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che sull'andamento epidemiologico nell'isola fa il punto della situazione e non esclude una crescita dei contagi e di conseguenza una maggiore necessità di cure. Le strutture ospedaliere già individuate dunque si preparano al peggio qualora il quadro del picco epidemico dovesse schizzare in alto. Non c'è ragione di temere che la rete sanitaria della regione non sia in grado di leggere in caso di nuovi malati di Covid, ha affermato l'assessore Razza, tenendo conto delle necessità di continuare a curare i malati oncologici e chi ha patologie cardiovascolari. La sanità siciliana non si farà trovare impreparata in caso di una nuova emergenza sanitaria. In arrivo 2 milioni di tamponi rapidi, un milione sarà consegnato già nella giornata di giovedì prossimo per un'azione di screening incisiva. Abbiamo reperito una fornitura di 2 milioni di nuovi tamponi rapidi, un milione saranno già in Sicilia giovedì e ci daranno la possibilità di ottenere un'azione di screening con una strumentazione che è testata dall'Istituto Superiore di Sanità e che in tutta Italia si è già trovata nelle strutture aeroportuali. Questo accompagna una crescita del numero significativo dei test, in Sicilia sono oltre 410 mila i tamponi effettuati su un numero non per fortuna ampio di soggetti positivi e questo ci vede tra le regioni più presenti in Italia nel rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e il numero dei positivi, ma sono stati anche oltre 170 mila gli screening sierologici fatti. Questa è la dimostrazione che il sistema sanitario ha imparato negli scorsi mesi come poter agire rapidamente e lo fa soprattutto nel territorio. Le strutture ospedaliere sono a disposizione di un numero significativamente più basso di casi che necessitano la ospedalizzazione e soprattutto quando abbiamo toccato il picco nei mesi scorsi siamo arrivati ad avere ricoverati in Sicilia 640 cittadini. Oggi siamo su numeri molto più bassi ma il sistema sanitario è lo stesso e questo vuol dire che non abbiamo davvero alcuna ragione di temere che tutta la rete della nostra regione non sia nelle condizioni di rispondere a questa epidemia. Nell'ultimo bollettino i contagi nell'isola sono di leggero rialzo. I 65 casi di ieri e i 61 del giorno precedente si registrano 77 casi nelle ultime 24 ore. Fonte Ministero della Salute a fronte di un numero raddoppiato di tamponi processati, 4.327 contro i 2.158 di ieri. I 77 casi diagnosticati in Sicilia si regge nel report quotidiano portano il totale degli attuali positivi a 1.919 casi. Ieri sono stati 1.842 di cui 1.761 in esauramento domiciliare, 141 ricoverati in ospedale con sintomi, più 116 rispetto ai dati di ieri e 17 gravi trasferiti in terapia intensiva. Portiamo pagina il dissesto al Comune di Catania. La Corte dei Conti ha condannato la sezione giurisdizionale, ha condannato l'ex sindaco Enzo Bianco e la sua giunta. Si tratta di un provvedimento in primo grado che di fatto non sortisce effetti immediati a cui l'ex primo cittadino ha già annunciato ricorso. Vediamo. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sicilia, preseduta da Salvatore Grasso, ha condannato l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, la giunta dello stesso preseduta dal 2013 al 2018, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito del procedimento avviato contro l'ex sindaco, per avere contribuito con la sua condotta al verificarsi del dissesto finanziario del Comune di Catania, così come contestato dalla Procura regionale diretta da Gianluca Albo. La sezione giurisdizionale ha disposto l'interdittiva legale per dieci anni dell'ex primo cittadino di Catania, oggi consigliere comunale, e a risarcimento del Comune per una somma pari a 48 mila euro. Gli ex componenti della giunta dovranno risarcire il Comune per somme variabili da 14 a 51 mila euro, oltre all'interdittiva legale per dieci anni a carico di Bosco, Dagata, Girlando, Licandro, Mazzola, Di Salvo, Consoli, Villari e Scalfa, e per cinque anni a carico di Strano, Cittadino Asciuto Battaglia, e lo certo. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti non ha debitato responsabilità a carico di Salvatore Andò, Agatino Lombardo, Fiorentino Troiano, e circa la sanzione pecunialia ha di fatto dimezzato le richieste della Procura. Si tratta comunque di un giudizio contabile di primo grado. La Corte, pertanto, ha riscontrato le contestazioni avanzate dalla Procura contabile, e cioè non solo l'omissione delle iniziative necessarie a fronteggiare le gravi irregolarità contabili e la rilevante crisi finanziaria in cui versava il Comune di Catania, ma anche una perdurante malagestio, nonché la palese e cosciente violazione dei principi di veridicità, tendibilità e universalità del bilancio. Si deve ritenere, pertanto, scrive la Corte oggi, che l'elemento soggettivo della colpa grave debba essere riscontrato nella condotta di tutti coloro i quali abbiano nel corso di almeno due esercizi di bilancio continuata ad approvare o ad apporre pareri favorevoli, nonostante il permanere delle predette criticità. Ovviamente partiranno a stretto giro di posti ricorsi, sotto forma di reclama al Collegio della Corte contabile e quindi l'appello. Le indagini furono avviate dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania e parallelamente hanno dato l'input ad un procedimento di natura penale aperto dalla Procura della Repubblica di Catania. Alcuni giorni fa l'udienza aperta si innanzia al GUP dopo la richiesta di costituzione di parte civile presentata dal Comune di Catania, dalla CGL e dall'Associazione di Cittadini e Utenti Arco è stata rinviata al 20 ottobre prossimo. Il GUP dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno penalmente Enzo Bianco ed altri 29 persone tra ex amministratori, alcuni dirigenti di Palazzo degli Elefanti, ex componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Appreso quanto deciso dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, l'ex sindaco Bianco ha inviato un comunicato dove scrive «Tra l'altro è chiaro che una vicenda così complessa dovrà avere lunghi ed approfonditi passaggi. Si tratta di un decreto non definitivo e non esecutivo, a cui ovviamente faremo opposizione. Siamo soltanto alla prima fase di un giudizio di primo grado della Corte dei Conti che si concluderà davanti a un collegio. Avremo modo di dimostrare la piena correttezza dei comportamenti della Giunta. Pur non condividendola, dice ancora Bianco, «Prendo atto di questa prima decisione con il rispetto che ho sempre avuto e sempre avevo nella magistratura». Bianco sottolinea come il Comune di Catania aveva dichiarato il predissesto prima della sindacatura nel 2012 sotto l'amministrazione Stancanelli per gli enormi indebitamenti degli anni precedenti quando tutti sanno che è nato il buco di bilancio», scrive ancora Bianco. «Avrei potuto scaricare ogni mia responsabilità appena insediato, ma ho lavorato per migliorare i conti del Comune e tutelare gli interessi della città, cercando di evitare il dissesto che sarebbe stato pagato dai creditori del Comune». Secondo Bianco, i numeri dicono chiaramente che il bilancio è migliorato nei cinque anni della sindacatura, dal 2013 al 2018, quindi non c'è stato alcun danno economico per il Comune. Infatti il procedimento portato avanti dalla Procura della Corte dei Conti non si riferisce a danno errariale, ma solo al fatto che non abbiamo dichiarato il dissesto», scrive ancora l'ex sindaco. «Se gli amministratori di un qualsiasi Comune con leggere difficoltà non provassero più ad evitare il dissesto, ma invece cercassero in tutti i modi di dichiararlo appena si presenta il primo piccolo problema economico-finanziario, sarebbe un disastro per gli enti locali italiani». «Incidente mortale sulla strada statale 284 in territorio di Paternone. Lo scontro tra due camion ha perso la vita un 35enne sul posto per diverse ore. Anas, forza dell'ordine, vigili del fuoco». «Un morto e un ferito. Il tragico bilancio di sangue di un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 qui sulla statale 284 occidentale Etnea, nei pressi del Vivio Scalilli, in territorio di Paternone, nel Catanese. D'impatto la scena presentata si agli occhi dei soccorritori, coinvolti un mezzo pesante ed un furgone, rimasto sventrato. Non ce l'ha fatta l'uomo, che era la guida di quest'ultimo. Sebastiano Orazio Corsaro, 35 anni, originario di Augusta, viveva ad Adrano. Sul camion viaggiava un autotrasportatore 44enne di Valverde, rimasto lievemente ferito. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo rosso guidato dalla vittima, proveniente da Catania, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, su cui procedeva l'altro. Violentissimo l'impatto, immediati soccorsi. Sul posto il 118, carabinieri la postrada, di riandazzo, di vigili del fuoco. Non è stato semplice estrarre l'uomo incastrato nelle lamiere. Inutile. L'invio di Lili soccorso, nella speranza di salvarlo. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, l'uomo sarebbe deceduto sul posto in ambulanza. Traffico in tilt sulla statale 284, dove è intervenuta anche l'ANAS per la gestione della viabilità. I due mezzi coinvolti nel sinistro hanno occupato l'intera carreggiata, portando alla inevitabile chiusura di un tratto della statale con deviazione. Sebastiano Cursaro, addetto al trasporto di ortaggi, tornava le prime ore di stamane dal capulogo Etneo, mentre un destino beffardo lo attendeva al chilometro 43.000 di una strada fin troppo familiare a lui. Lascia mogli e cinque figli. Oltre ai 300 incidenti negli ultimi dieci anni su questa strada, una lunga scia di sangue, ma c'è un progetto che ormai è fermo da tanto tempo, il progetto proprio che prevede di fatto il raddoppio della strada statale 284. Vediamo. Più di 300 incidenti in dieci anni ed una lunga scia di sangue che non si arresta è intanto il progetto. Per il raddoppio della strada statale 284 resta imbrigliato nelle pastoie burocratiche. Adesso dal comitato che da due anni spinge affinché l'opera sia finalmente realizzata, la richiesta ai consigli comunali delle città attraversate da questa arteria pedemontana di deliberare un atto che la dichiari come strategica e urgente. Atti che arriverebbero prima alla Regione e poi al Governo nazionale. Un'azione senza precedenti a favore di automobilisti, autotrasportatori, attori e spettatori, loro malgrado di sinistri anche mortali. Mister Bianco, Belpasso, Santa Maria di Licudia, Ragalna, Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto, assurdo pensare, denuncia il promotore Benedetto Torrisi, che per Genova ci siano stati interventi immediati per la ricostruzione del ponte Morandi e qui ancora si viaggi con la paura che qualcosa di drammatico possa accadere a chi transita sulla statale. L'ennesimo incidente di oggi la dice tutta. Siamo credo arrivati a oltre 60 morti su questa strada, oltre 370 incidenti negli ultimi 10 anni. Ditemi voi se non è un'opera che va ritenuta urgente. La 284 è un percorso che è stato ampiamente riconosciuto da ANAS come sottodimensionato. Il sottodimensionamento ha portato tutto il comitato con i tecnici, gli ingegneri, a supporto del comitato, ricordo sempre in maniera gratuita, proprio per un'azione di cittadinanza attiva, a riconoscere che questo percorso è così sottodimensionato che è inevitabile che lo stress che accumulano i viaggiatori ogni giorno negli incolonnamenti inevitabilmente porta a fare l'imprudenza. Purtroppo di imprudenza spesse volte si parla, ma l'imprudenza comporta poi arrivare al tragico incidente. È un'opera strategica perché rappresenta un volano per lo sviluppo di quel territorio che ha un potenziale inespresso fortissimo, che chiunque oggi comincia a ritenere che diventa importante anche questo percorso. Con tutte le norme e i vantaggi che un'opera strategica può godere, così per come è stato il Ponte di Genova. Non si capisce perché il Ponte di Genova, certo, è un'opera assolutamente strategica, riconoscibilissima, purtroppo ci sono stati anche in quel caso dei morti, si è riuscito a fare in tempi assolutamente rapidi. Noi sono passati due anni, aspettavamo dopo la riunione avuta a febbraio del 2020 con Anas che a settembre il progetto del raddoppio fosse presentato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma pare, dalle notizie che ci giungono, che ancora a questo non si è giunti. Andiamo adesso alla zona industriale di Catania, il giorno dopo l'ennesimo allagamento, una pompa per il drenaggio dell'acqua fuori uso perché manutenzione avrebbe amplificato gli effetti della bomba d'acqua, ma proseguono le polemiche. Ieri era così sott'acqua, oggi invece è così smaltita la grande paura vissuta dalle migliaia di operai ed impiegati che quotidianamente affollano la zona industriale di Catania e che ieri appunto sono rimasti bloccati all'interno delle aziende oppure impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro per l'acqua alta, creatasi a seguito del violento nubifraggio che ha colpito Catania e l'area metropolitana e che ha provocato disagi, a dire la verità, non solo nella zona industriale ma anche nei paesi della cintura urbana, oltre che nel centro storico cittadino. Però alla zona industriale l'allarme si ripete, malgrado i lavori che sono stati svolti in questo periodo, con i sindacati, intervenuti già ieri, che chiedono maggiore tutela per chi lavora in quell'area. Lavori sì, ma devono essere meglio organizzati per eliminare definitivamente l'acqua alta dall'area industriale. Si va al lavoro per poche decine di euro spesso e poi i danni invece, gli effetti collaterali, sono ben diversi. Negli anni si sono susseguiti tabli tecnici, cabine di regie, incontri, promesse, di tutto. Io ne ho sentite negli anni di tutti i colori. Probabilmente se ancora ci ritroviamo a parlare delle stesse cose dopo tanto tempo è probabile che qualcosina ancora non ha funzionato. Quindi l'intervento deve essere serio. Che regione e comune si mettano d'accordo perché anche il rimbalzo di responsabilità tra chi appartiene a una strada e l'altra è un qualcosa anche che per chi frequenta quotidianamente questa zona è qualcosa di deprimente. Che ci sia davvero un intervento serio, che vengano fatti non solamente quei lavori da contorno e che si possa realmente e finalmente dare un decoro a questa zona che occupa tantissime aziende e chi ha nel coraggio ancora di investire in questa zona. Ma cos'è accaduto ieri? L'assessore Pippo Arcidiaco non tiene a precisare. I quattro canali che insistono su quella zona sono stati oggetto di pulizia da parte del Genio Civile che ha dato a quattro ditte l'attività di pulire i quattro canali e quello che si sta facendo già da otto giorni. E' successo un problema qualche giorno prima, esattamente due, da quando c'è stato questo temporale inaspettato tra l'altro, che una delle due pompe che sono devolute al tiraggio dell'acqua e poi a portarla in uno dei canali perché andasse poi al depuratore e così via, si è guastata. Per cui il tempo di poterla sistemare non c'è stato. Sicché abbiamo abbattuto le ture che in estate ci servono per evitare che l'acqua arrivi al mare con il disastro ambientale ed essendo finite un po' il momento balneare le abbiamo aperte facendo defluire normalmente l'acqua. Quindi chi ieri ha criticato in politica e nei sindacati farebbe bene prima a capire qual è il problema, prima di lanciare emissive senza sapere. E' anche vero che se la regione siciliana non ci manda i soldi dopo aver fatto il contratto di passare tutte le responsabilità al Comune di Catania, cosa che avverrà in sei mesi e che io ho dato a Sidra per l'aspetto idrogeologico, è chiaro che non possiamo fare nulla. Il Comune di Catania è in dissesto. I soldi del patto previsti per la zona industriale li stiamo regolarmente spendendo ma che non riguardano il rischio idrogeologico. Il rischio idrogeologico ci ha promesso il Presidente Musumeci 10 milioni di euro che un ricorso del Comune di Gela ha bloccato sino ad oggi. Ma appena arriveranno, spero presto, questi soldi sarà la nostra cura devolverli in particolare al rischio idrogeologico. L'ultima pagina, scompenso cardiaco controllato con un sistema wireless. L'equipe di aritmologia della cardiologia del Polichelinico di Catania ha installato il primo e a oggi unico impianto per il monitoraggio costante. Vediamo. E' stato impiantato ad uno soggetto di sesso maschile il primo e a oggi unico. In Sicilia, sensore wireless per il monitoraggio dello scompenso cardiaco da remoto. La cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria Polichelinico Rodolico San Marco di Catania, diretta dal Professore Corrado Tamburino, si conferma dunque tra le eccellenze italiane grazie all'innovazione e alla ricerca. L'impianto è stato eseguito dall'equipe di aritmologia diretto dalla Professoressa Valeria Calvi. Il sistema CardioMEMS è stato impiantato dai dottori Angelo Di Grazie e Daniela Dugo ed è composto da un minuscolo sensore wireless inserito nell'arteria polmonare che avvisa i medici, in remoto appunto, di qualsiasi anomalia della pressione arteriosa anche prima dell'apparire dei sintomi. Sono 80.000 siciliani con scompenso cardiaco ed è questa una delle patologie più costose per il sistema sanitario. La nuova tecnologia inserita dentro l'arteria polmonare permetterà risparmi non indifferenti. A carico del Sistema Sanitario Nazionale ma consentirà anche una pronta reazione terapeutica, una significativa riduzione delle ospedalizzazioni, una migliore qualità di vita nei pazienti con scompenso cardiaco. La professoressa Valeria Calvi dirige l'equipe di aritmologia. È un piccolo dispositivo che si impianta per via percutanea, quindi senza nessuna chirurgia e senza fare tagli, nell'arteria polmonare dei pazienti affetti da scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco è una patologia molto, purtroppo molto diffusa, io direi è un'epidemia dei nostri tempi ed è una patologia molto invalidante. I pazienti con scompenso cardiaco ricorrono spessissimo alle cure ospedaliere, sia come ambulatori ma sia soprattutto si ricoverano molto spesso. Quindi cercare di ridurre il più possibile i ricoveri e cercare anche ovviamente innanzitutto di fare stare meglio i pazienti è il nostro obiettivo fondamentale. Questo dispositivo permette di tenere sotto controllo, a distanza, la pressione polmonare del paziente, che è un parametro molto importante che ci permette di modificare la terapia quando necessario, prevenendo gli aggravamenti e quindi i frequenti ricoveri per scompenso cardiaco. Qui a Catania dunque si dimostra ancora una volta quanto sia avanzata la medicina catanese siciliana in questo caso. Sì, questa è una cosa che chiaramente ci riempie di orgoglio. La nostra unità operativa di cardiologia del Policlinico Rodolico, diretta dal professore Tamburino, è molto avanti con tutta la tecnologia. Qui si impiantano le valvole cardiache per via percutanea e anche noi, nel nostro piccolo, il gruppo che ci occupiamo del trattamento delle aritmie cardiache, con tutti i device oggi disponibili, partecipiamo a questo utilizzo della tecnologia per la migliore qualità di vita dei pazienti. Quindi sì, è un'evoluzione tecnologica molto importante. Questo device è il primo e ad oggi unico che è stato impiantato in Sicilia. Però professoressa, a questo punto si è pronti per proseguire su questa strada, no? Assolutamente, siamo pronti. Siamo pronti ad impiantarlo ad altri pazienti che abbiano le indicazioni per usufruire di questa tecnologia. Quindi pazienti con scompenso cardiaco in fase avanzata che hanno bisogno di un attento monitoraggio del loro trattamento farmacologico. Però funzionano tutti con sistemi di rete protetti, non sono sistemi hackerabili, chiaramente, a tutti i livelli. Dall'21 settembre l'Ast subentrerà le società di trasporti su gomma, Buda e SAG, garantendo lo svolgimento del servizio bus nell'area Ionica e Tenei e l'assorbimento dei lavoratori dipendenti. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone. Andiamo avanti verso le amministrative. Oggi andiamo a Milo, tra i comuni e Tenei, che andranno al voto. Turismo ed enogastronomia sono le vocazioni naturali della città di Milo, che andrà al voto i prossimi 4 e 5 ottobre per il rinnovo delle amministrazioni comunali. E sono anche i punti cardine dei programmi dei due candidati, l'uscente Alfio Cosentino e l'ex sindaco Giuseppe Messina. Primo cittadino, quest'ultimo per due mandati consecutivi dal 2005 al 2015, sviluppo del territorio, incremento delle attività, viti vinicole, se da una parte l'attuale primo cittadino punta a mantenere quel percorso avviato 5 anni fa, dall'altro il suo antagonista sostiene che proprio quel percorso è stato possibile grazie al lavoro fatto prima del suo insediamento, quando i bilanci si chiusero in attivo. Il turismo enogastronomico ha rappresentato in questi anni di amministrazione, in questi 5 anni, l'obiettivo primario che ci siamo posti. Penso che i risultati che abbiamo ottenuto sono sotto gli occhi di tutti. L'aumento delle aziende vinicole che hanno investito sul territorio di Milo è imponente. I dati statistici che abbiamo presentato durante l'ultima edizione della Vinimilo confermano queste parole che io sto dicendo. Un incremento della superficie evitata di oltre il 50%, un aumento della produzione di uva caricante che atta a diventare etna bianco superiore dell'80%, un aumento delle aziende che imbottigliano vino etna bianco superiore e quindi fanno girare il nome del nostro comune in tutto il mondo sono passate praticamente da due aziende nel 2015 a 11 aziende nel 2019. Quindi sono dati incontrovertibili che dimostrano che abbiamo lavorato bene. Diciamo che è stato un percorso lanciato dalla vecchia amministrazione. Il settore che privilegia Milo o perlomeno su cui puntare Milo è proprio l'agricoltura e il turismo. Sono gli obiettivi che noi abbiamo seguito già nei dieci anni scorsi di amministrazione che devo dire per quanto riguarda il turismo c'è stata una carenza nella vecchia amministrazione visibile diciamo a tutti quanti. L'enologia sicuramente siccome il paese è vocato a questa tradizione quindi è un percorso naturale. Riguardo anche al bilancio vorrei aggiungere che la nostra amministrazione in un rendiconto che hanno approvato loro e per cui noi all'opposizione abbiamo fatto un manifesto si evidenzia dove nella delibera di approvazione del rendiconto è rimasto un residuo di avanzo dell'amministrazione di oltre 14.000 euro quasi 15.000 euro quindi l'amministrazione messina ha lasciato un bilancio attivo e quindi noi siamo contenti di questo. Il post sisma sull'Etna oggi torniamo a parlare di microzonazione vediamo il perché. Terremoto della notte di Santo Stefano del 2018. La buona notizia è che la struttura commissariale ha completato l'itere per i risarcimento degli eventi diritto. Considerate le esigue somme a disposizione avranno la precedenza alle prime case. La brutta notizia è che i comuni colpiti dal disastroso evento tellurico non hanno ancora ultimato le pratiche risercitorie. Le cause sono da ricercare nella carenza di personale negli uffici tecnici e le norme mole di richieste in gecenza. C'è da chiarire inoltre come l'avviata attività di microzonazione adacileale negli altri comuni coinvolti non è collegata con i procedimenti risercitori in atto. Si tratta infatti di un progetto della protezione di civile regionale presisma per il quale sarà necessario attendere il terzo livello di osservazioni geologiche prima di avere un quadro esaustivo e ci vorranno ancora 3-4 anni nelle migliori delle ipotesi. Parte delle somme disponibili sono già state distribuite alle aziende che fatturato e dati alla mano hanno dimostrato di aver perso attrezzature e servizi a causa del terremoto su 15 domande presentate. 14 sono state vase. Il 12 ottobre prossimo scada la seconda tranche di istanze riservate alle attività che possono dimostrare perdita di fatturato verificabile ed attingere così a contributo loro riservato. Il commissario Oscaria sulla questione rimborso e risarcimento non ha mai tentennato sulle modalità di eccesso e benefici economici spiegando che ogni pratica viene verificata minuziosamente schivando possibili truffe da parte dei soliti furbetti. Capitolo delocalizzazione. Individuate una cinquantina di mobili da abbattere in quanto edificati su fagli che presto o tardi si riattiveranno, ragione per cui è inutile riedificare sugli stessi siti. Entro il 30 settembre sarà pubblicata l'ordinanza che riguarda tutti i danni ovunque essi si siano verificati. A quel punto i tecnici dovranno proporre il progetto al comune nel quale ricade l'immobile. Ha approvato il progetto da parte del comune, è quantificato anche l'entità del contributo, questo contributo verrà poi liquidato dal commissario. La parte relativa al commissario è molto limitata, quindi dal 30 settembre noi aspettiamo soltanto l'arrivo dei progetti approvati allo Stato con le somme che noi abbiamo, siccome non sappiamo di preciso quanto sarà l'entità del danno al patrimonio privato, io orientativamente l'ho quantificato in un po' più di 200 milioni che non abbiamo, li abbiamo quasi tutti, ma non tutti, io penso che noi potremo liquidare e dare un contributo per le prime case. Attenzione, bisogna considerare l'opportunità di utilizzare anche le altre provvidenze, cioè il sisma bonus che ti dà un forte contributo si può aggiungere al contributo che riguarda il terremoto. L'eco bonus si può aggiungere, quindi cercando di lavorare e distribuendo i costi tra quelli che diamo noi, l'eco bonus e il sisma bonus, noi possiamo ricostruire almeno le prime case bene. Il leggeologo Marco Neri, componente dello staff di esperti della struttura commissariale sulla microzonazione, chiarisce. Negli ultimi anni noi non abbiamo questo tempo a disposizione, dobbiamo consentire alle persone di rientrare nelle proprie abitazioni, che devono peraltro essere abitazioni sicure, ubicate nei posti giusti dove si può effettivamente ricostruire. Ed è per questo che il commissario straordinario ha organizzato un lavoro, un tavolo tecnico, di comune accordo con i tecnici del Genio Civile e di Invitalia e ha realizzato già una mappatura del territorio dove ha individuato le zone a maggiore pericolosità sismica, individuando le cosiddette zone di rispetto e zone di suscettibilità. Con questa mappa diamo la possibilità quindi al commissario di ricostruire sin da subito, senza dover aspettare la microzonazione sismica di terzo livello, che per alcune zone importanti del territorio, come ad esempio Zafferana e Tenea e Cireale, per avere questa microzonazione occorreranno sicuramente parecchi anni. Installazioni artistiche giovedì prossimo in Piazza Verga a Catania, vediamo. La moda al servizio della natura. Dai 58 cerchi d'oro che da due anni abbracciano simbolicamente e visivamente gli alberi di Piazza Verga a Catania di fronte al comando provinciale dei Carabinieri, alle modelle che giovedì prossimo alle 19 saranno un vero e proprio esercito di bellezza vestite dai talentuosi stilisti studenti della docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania Liliana Nigro. Un inno al bello, una catarsi spirituale, spiega stamani il fautore dell'iniziativa Claudio Arezzo di Trifiletti che proprio due anni fa lanciò un grido d'allarme per la città e per la sua natura martoriata adornando questi fusti di anelli dorati. Vogliamo un domani a misura d'uomo in un periodo difficile come quello che la nostra società sta attraversando, spiegano stamani i due organizzatori della performance artistica. Proprio a Piazza Verga, nel cuore pulsante di questa città metropolitana, la nostra Catania, Claudio ha cinto questi alberi con un cerchio d'oro, gli alberi sono esattamente 58. Perché l'oro? Perché questo circoncidere e abbracciare gli alberi? Questo ve lo dirà lui. Intanto io vi dico il nostro intervento. Come docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, io insieme ai miei 70 stilisti, che saranno all'incirca 70, forse un po' di più coinvolti in questa manifestazione, abbiamo deciso di portare 70 vestali, 70 ragazze che indosseranno degli abiti incredibili realizzati dai miei allievi per abbracciare fisicamente questi alberi. Questi alberi perché possano rappresentare proprio in un momento come questo che stiamo vivendo dell'allontanarsi, di non avere nessun contatto fisico, addirittura tante volte quasi mentale, perché ormai siamo inscenati e obbligati e coatti a pensare, inquadrati tutti in un modo. Noi ci vogliamo dissociare, noi vogliamo abbracciare l'arte, noi vogliamo abbracciare l'amore. Infatti consentitemi di ricordare il titolo di questa manifestazione che, come dicevo, poc'anzi andrà in scena giovedì 17 settembre alle ore 19 proprio qui a Piazza Verga. Il titolo è trasversale così come abbiamo voluto, amo re trattino amo te. Quello che vorrei spiegare è la missione che ha l'arte, che porta avanti un artista. L'arte non cerca visibilità, l'arte si pone il quesito di mandare un messaggio. Gli alberi, lo ritorno a dire, a volte noi vediamo che in tutto il mondo decapitano gli alberi e questo fatto passa quasi come una cosa normale, è invece un crimine. La natura è un tutt'uno, ma re natura con noi. Quindi se noi sottovalutiamo i benefici che inconsciamente, involontariamente il pianeta ci dona giorno dopo giorno, è inutile che parliamo di divisione, di allontanamento sociale, di mascherina. Dobbiamo tornare ad abbracciare la natura. Non ci sono aggiornamenti, termina dunque qui la seconda edizione di Ora Tg. Prossimo appuntamento con l'informazione su Re TV è fissato per la giornata di domani alle ore 14. Buon proseguimento di serata a voi tutti. Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 16 settembre. Il cielo sarà variabile in Sicilia, in assenza di precipitazioni, mari prevalentemente calmi, venti moderati. Temperature. La massima più elevata a Messina, 30 gradi, 26 gradi nell'Enese. A Catania 29 gradi, la massima 22, la minima. A Catania 29 gradi, la massima.